dai vi sto facendo il video dai riempitevi di cucinate dai matti colpisci ti ho fatto perdere i punti pancia punti pancius bum ti ho fatto perdere i punti pancia segui ti sto facendo sandwich le scarpe no mattias le scarpe no pancius aia aia non so le scarpe no mattias aia 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 aia